Una delle cose principali ovviamente che abbiamo utilizzato, che stiamo utilizzando, è il mondo Z-Travel, il mondo di chi viaggia. Ovviamente è molto comodo poter avere un'applicazione che mi permette sia in azienda che mentre sono in viaggio, di poter fotografare, scanalizzare, mettere dentro tutti i giustificativi di spese che il mio amministrativo ama tantissimo e che invece vengono odiati dai commerciali che devono tenere tutti questi appunti. E quindi molto semplicemente con una bella foto noi sappiamo in tempo reale di cosa stiamo parlando, di che spese stiamo vedendo e quindi puoi avere dei consuntivi e grazie alla BI puoi avere delle statistiche su questo mondo che è molto importante perché è una delle fonti di spesa che l'azienda deve sempre tenere sotto controllo.